Bentornati alle Sobri News, le principali notizie del giorno in 60 secondi. Non scherza Amazon che ha dichiarato guerra già da tempo alle truffe, una lotta serrata che ha visto il colosso dell'e-commerce prendere scelte anche impopolari ma a favore dei clienti. Grazie all'agenzia Cyber Security ha individuato oltre 13 milioni di prove che hanno smascherato una rete di favoritismi tra clienti e aziende al fine di ottenere recensioni positive false. Ecco perché brand come Oki non si trovano più sul portale. Il ministro Colau responsabile della transizione digitale dichiara in un'intervista aiutiamo le imprese a fare e-commerce. Il ministro ha sottolineato che c'è chi ha cominciato a vendere per e-mail, chi ha costruito un sito e chi è entrato in una piattaforma e-commerce per arginare la crisi. Ma tutto ciò non basta e bisogna fare molti altri passi avanti per rendere strutturale la trasformazione ed aiutare tutte le aziende. Sicuramente questa è una buona notizia per tutte quelle aziende che vogliono fare e-commerce ma non hanno ancora avuto la possibilità di mettersi in gioco.